ma fra i classici madonna poi non mi ricordo un gioco vabbè lo faccio dopo facciamo stasperare il cazzo allora piate le armi le avete tutte cazzo che che ha preso le armi tutte lui no perché alcune le abbiamo persa qui ce ne stanno due venite visto che avete pronto il carico tenete quelle va fate prima mattina che sono ci schiatto subito mamma mia quanto erano fa è bellissimo fa tanto 300.000 fa e passa vieni qua ora aspetta grazie grazie ah beh sempre riesco a colpirlo però mettiamolo non è una minchia da farla così ma utilizzo il grido per la per il miniboss non serve un ottimo miniboss no facciamo secondo ma le benetri utilizzati se non mi ricordo più perché non avrà comunque non dovremmo risolvere non mi ricordavo ma guardate facile questo visto che tornava del merda ok me ne ha passato il post si visto se cioè prendete la salva età una in più a me ne basta una mini qua da me appena ci faccio il grido quindi avvicinatevi c'è stato eh uno qua da mini che faccio il grido vai vai grido fatto guarda gr gr aratti r r r r r niente sono morto gg sempre la prima del giorno mamma mia ultimo 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 effetto faccio 8 salite non ho detto che l'ho fatto non credo che eri l'unico a sparare comunque io ci sto al corno grido vai no perché il grido vannaccio non si può seguito minibus andiamo subito almeno allora e poi fegare attenzione aglio visto pronto al plato hai stai matina che pensi che non sono sì ma nel prossimo non devi tirarlo te lo dico quale quello alla fine ricollegate i ponti però raggio tanti raggio da minibus raggio da minibus raggio da minibus posso fare l'attacco aereo contro tutti questi zombie no per fatto di polizia perché no teniamola per la parte finale va buon mucchio prima che facciamo la parte finale ci vuole ci vuole non è che niente che paleo l'impulso di merda oh basta messo con un attacco quello di po' no la pedana madonna che fastidio le pedane che sta succedendo no qua bisognava pulizia ma nel prossimo colpisce dopo un po' è quello l'impulso tira grido grido fatto no che palle dai e niente non so chi ma qualcuno mi ha bodyblocato una botta una botta big niente grande tira io a botta muore non muore non muore più eh oh cazzo abbiamo stato tre botte ve lo voglio riportare tutto da prendere oh ma basta che è che continua a chiudermi sotto oh e dai ultimo si sarà eh mini chi se ne fotte le mie le direi voi lo colpisco un pochettino se riesce a farlo eh se riesco rega non voglio più vedervi con le scale dove sta e sul braccio sta girando se vabbò niente sono morto ancora io mi sa niente metto la trappola ma non vabbè questa mattina serve l'ultima volta vai libo tira una botta raggiunga la sera che non serve eh oh cazzo perdiamo troppo tempo perdiamo aspetta devo fare l'ultima volta l'ultima volta ma non sono uscita vedere big da grado che spalle oh basta che è regalo non salire non era nemmeno l'ultimo ma che coglione che sono ma minimo si muove sale big vieni qua no no chi stai fotte al miniboss si va dritto al cristallo vai 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 niente rip vai dai dai credo che manchi poco abbraccio si continua a girare che palle rega tutte a fare il cristallo a tutti dove sta tutto il braccio e niente sono morto sono morto perché c'è sto cazzo di miniboss è sotto ma il tiro grido no tira appena fatto aspetta va vai tira va ok esatto ok ricarichiamo le armi con calma rega niente no niente niente tre occhi belli ma io boh dimmi se è normale sta cosa niente madonna vai restate reset vai big big se mi riesci a curare tra poco ce la botta eh se mi riesci a curare sono sotto di te niente reset a posto bravo attento il minimo reset reset mati mi riesci a curare se riesci aspetta reset mati 2 progetti . t alon se ti faccio tanto schifo posto di premonti tranquillo a si si può dire vabbè vabbè ma prima o tentate io e zipro a a a a